Lui tornerà con me e chi fosse interessato, interessata ad avere una risposta a questa domanda, segua il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschio, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora, concentrati su questo lui del quale vuoi sapere se tornare con te, poi scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Perché ho scelto la carta 1? Non hai ancora la forza sufficiente per farlo tornare con te, devi impegnarti di più. Che ho scelto la carta 2? Ormai è in testa un'altra donna per cui difficilmente tornerà con te. Che ho scelto la carta 3? Potrebbe tornare ma la vittoria non sarà completa. Che ho scelto la carta 4? Tornerà con te e ci sarà una relazione solida e stabile che potrebbe cambiando qualcosa anche sfociare proprio in una convivenza, matrimonio. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di qui di posto e link in descrizione. Ciao a tutti!